Abbiamo qui in officina una Ferrari 458 Italia per una riparazione del cambio e fa sempre piacere avere queste auto in officina perché comunque i clienti si fidano monta un 7 marce Getrag che è il 7 DCL 750 che è il classico cambio 7 marce che ha montato praticamente tutte le Ferrari prima dell'arrivo dell'ultimo 8 marce quindi era montato praticamente dalla prima California aspirata fino a qualche anno fa L'auto è la 458 Italia, la conoscete a memoria, è una macchina che ormai ha 15 anni una macchina bellissima, a me piace un casino esteticamente perché è molto tra virgolette giapponese il frontale rispetto a 430 che non mi è mai piaciuto e anche il retrotreno che richiama un po' con i tre scarichi F40, un po' una linea comunque ha fatto un salto esagerato dalla 430 a 4358 anche a livello di trasmissione perché la trasmissione 430 era il classico cambio robotizzato Ferrari 6 marce invece con 7 marce doppia frizione ha fatto un salto in avanti estremo però prima di passare ai problemi del cambio tutti i meccanici e carrozzini mi capiranno quando si smontano a Ferrari si rimane sempre molto male perché a livello costruttivo tanti particolari molte city car come per esempio la Polo Volkswagen per tante cose è fatta meglio e non sto scherzando perché nella mia immaginazione questo supporto del paraurti probabilmente non era stabile allora hanno chiamato Giovanni fuori da Maranello due curve a destra c'è la ferramenta ha preso due profilati e si è inventato un po' il supporto faro e invece per il supporto dietro della marmitta che secondo me non serve a nulla perché si flette e l'ha fatto perché aveva un qualche problema con lo scarico che magari vibrava o per dare un po' di supporto al paraurti visto che avevano in officina Gennaro che lui è bravo a piegare invece i profilati gli hanno fatto fare questa bellissima traversa che fa schifo e su una Ferrari è un insulto anche perché voler guardare dici la faccio schifosa però o gli metto due tappi di plastica o la chiudo o la limo un attimo cioè ci sono mille modi per farla più bella spendendo uguale e invece loro hanno deciso di fare una schifezza del genere ci sono anche molti altri dettagli che però non fanno parte del tema di questo video però voglio dire che gli addetti ai lavori come meccanici e carrozzieri come ho detto prima quando smontano un'auto o una Ferrari rimangono male però c'è da dire che quando si ha in officina una vettura col cavallino col fondo giallo gli si perdona tutto il cambio lo vedete qui è un cambio bassissimo perché ovviamente montano questa trasmissione su tutte le supercara anche la Mercedes MGGT, McLaren perché hanno fatto un cambio con l'albero di trasmissione molto basso perché questi motori hanno carter secco e praticamente hanno un albero motore praticamente 10 cm da terra è molto compatto perché comunque sono riusciti a integrare anche il gruppo differenziale il cambio comunque a livello di compattezza è uno dei top insieme al Sant'Aconista che praticamente è il cambio che monta la Huracan che invece è quello prodotto interamente la Volkswagen il cambio ha diverse problematiche perché la problematica più comune è la perdita d'olio quindi state molto attenti sulle Ferrari che montano questo cambio di controllare di non trovare macchie di olio idraulico praticamente sulle mattonelle nel garage perché se uno non si accorge e può degenerare anche velocemente rischia di far funzionare la macchina senza olio e se perde la parte idraulica fa dei danni relativi perché comunque può bruciare le frizioni comunque appena cala la pressione il cambio fondamentalmente non funziona più ma se perde olio dalla parte meccanica degli ingranaggi e uno non si accorge rischiate di fare la frittata perché il cambio comincia a girare a secco e poi lo prendete e lo buttate via e il Mercedes la Mercedes GT costa più o meno mi sembra 12 dai 12 ai 15 mila euro i Ferrari vi possono chiedere anche 40 mila più IVA perché il cambio è uguale la famiglia è uguale però ovviamente tutti gli attacchi sono differenti di base il cambio è abbastanza affidabile a parte le prime versioni che era il California praticamente aspirato che è il primo praticamente modello che mi pare l'ha fatto nel 2008-2009 da cui hanno fatto diverse modifiche intelligenti per dire anche il pignone hanno modificato l'attacco perché in scalata comunque la coppia conica non era ben salda allora rischiava di spaccare i denti della coppia conica sulle versioni successive hanno cambiato il sistema di ancoraggio del pignone possono avere anche qualche problema sulla parte del gruppo valvole interno che purtroppo è un casino da smontare perché bisogna aprire completamente il cambio rispetto ad altri cambi che hanno magari la coppia e si riesce a intervenire anche con la macchina col cambio montato in questo caso abbiamo anche un altro cambio sempre della stessa famiglia di una Ferrari F12 a revisionare vedete che la parte anteriore è diversa perché in questo caso il motore centrale viene montato direttamente sul gruppo volano del motore e invece in questo caso è montato a Transax quindi ha un perno, un albero con mille righe che va ad agganciarsi a un albero che finisce sul volano della vettura che è distante un metro e mezzo per dire sotto il cofono anteriore della macchina se volete vedere la parte più tecnica della nostra lavorazione che è praticamente la scomposizione del cambio e il nostro lavoro all'interno proprio del cuore della trasmissione trovate il video in descrizione Grazie a tutti